Un saluto a tutti. Buongiorno a tutti dalla redazione di Rossini TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il Vallefoglia Magazine, il settimanale di approfondimento della città di Vallefoglia. Prima di iniziare, come sempre vi ricordo i nostri contatti, alle quali potete inviare le vostre segnalazioni. Qua in sovrimpressione trovate il numero di WhatsApp oppure la mail di redazione Vallefoglia www.chiocciolorossinitv.it. Vi ricordo che potete inviarci foto, potete inviarci video, messaggi audio per quanto riguarda WhatsApp oppure semplici messaggi di testo. Ma iniziamo subito con la prima notizia perché con l'avvicinarsi della primavera sono numerosi i progetti futuri che intende mettere in atto il comune di Vallefoglia. Dai lavori del nuovo comune che procedono spediti fino ad un possibile rinnovo della piazza principale di Montecchio. Il sindaco Palmirocchielli in questa intervista ha fatto il punto della situazione. Questa è un'area molto in movimento sia dal punto di vista delle opere pubbliche sia dal punto di vista delle attività private. Sono molte le opere pubbliche e molte le attività private anche di nuove aziende in controtendenza rispetto alle vicende della pandemia. Stanno andando avanti i lavori del comune, stiamo vivacizzando un po' anche i mercati, il mercato di Montecchio che è un grande mercato ormai paragonabile a quello di peso, il mercato di bottega che domani in via sperimentale lo riportiamo su Piazza Rossini e poi vedremo se riportarlo dove l'avevamo trasferito durante i lavori della piazza. E poi sono numerosissime le attività, stanno ultimando oramai i lavori per rendere i Gnifu, il teatro Branca di Sant'Angelo in Lizzola. Abbiamo avuto un incontro recentissimamente anche con Riviera Banca che sono interessate con Marche Multiservizi, il Consorzio Bonifico, l'Università di Urbino, tutti attori per questo progetto agroalimentare di controllo dell'aria, dell'acqua e dei prodotti che vanno sulle tavole delle persone per avere un'alimentazione di qualità, di forte tutela della salute delle persone. Quindi diciamo poi abbiamo costruito oltre 400 loculi perché è un territorio che ha anche queste necessità, sia Montecchio, sia Montefabri, sia Colbordolo, per dare delle risposte. Stiamo studiando un'ipotesi di ristrutturazione della piazza di Montecchio e di ristrutturazione anche del cimitero, compreso l'accesso al cimitero di Montecchio, che è quello più grande, che vengono anche da altri comuni. Quindi su Montecchio sono ultimati i lavori di consolidamento dei movimenti franosi nel monte di Montecchio per circa 500 mila euro. Ho parlato proprio stamattina con il Consorzio Bonifica per la messa di sicurezza del Fosso Taccone, per l'area di l'ammenazione, un paio di milioni di investimenti importanti e quindi la riqualificazione della piazza principale, lì abbiamo speso quasi 200 mila euro già in tutta la nuova illuminazione, in piazza della Repubblica, in piazza dei quartieri, nel viale che va verso la chiesa. Abbiamo illuminato tutto con le lampade a LED, tutta una riduzione anche dei consumi energetici, quindi è una situazione molto in movimento che ovvio lavora per il benessere della comunità, per la tutela della salute e per, diciamo, soprattutto ritornare quanto prima la piena occupazione se passa questa buriana lunga, ahimè, del coronavirus. Con tutti i vaccini ho mandato una lettera stamattina all'assessore regionale per dire che gli oltreottantenni facciano, diciamo, il vaccino o nella casa della salute al palavitri dove abbiamo fatto i tamponi o meglio come ha fatto il Governo nazionale che ha fatto l'accordo con i medici di base cosa che avrebbe dovuto fare la Regione Marche e farlo tutti negli ambulatori dei medici di medicina generale, medici di famiglia che sono abituali, diciamo, le persone che vanno da oltre 80 anni in avanti. E sul tema delle biodigestore, proprio in questi giorni è arrivata la richiesta da parte del centro-destra di Vallefoglia ad un invito per un confronto su questo delicato tema. Il consigliere comunale Borlenghi ha inviato il documento all'amministrazione comunale, agli amministratori di Green Factory e all'associazione Diversamente. Vediamo il servizio. Cerchiamo di sopperire a quella che è stata la mancanza, secondo noi, di questa amministrazione. partiamo da un concetto molto semplice, e cioè conoscere per decidere. Il modo migliore per conoscere è capire bene le ragioni del sì e del no. E quindi è la prima volta in questi mesi che noi proponiamo, che siamo gli unici, che abbiamo proposto un incontro dove siano presenti i fautori del sì e i fautori del no. lo facciamo proprio perché la gente possa conoscere al meglio la situazione e poi anche perché noi siamo stati coloro che hanno proposto di fare un referendum vincolante alla volontà popolare per decidere appunto se fare o meno questo biodigestore. Questa proposta che era contenuta in un'unione delibera del Consiglio di ottobre ci è stata bocciata, ci è stata bocciata non solo dalla maggioranza ma anche sorprendentemente dal Movimento 5 Stelle che dovrebbe avere nel DNA proprio la centralità della volontà popolare. Questa è la condizione per cui noi oggi siamo andati verso questa direzione. Gli invitati sono l'amministratore unico di Green Factory, cioè il dottor T. Viroli e per contro il presidente dell'associazione, diversamente, cioè Andrea Torcoletti. L'invito è stato mandato loro e per conoscenza anche all'amministrazione perché si attrezzino in modo di presentarsi in questo incontro con almeno tre tecnici, anzi con tre tecnici per parte perché l'incontro non è un incontro politico ma è un incontro tecnico-scientifico proprio perché la gente non ha bisogno di polemiche o di discorsi campati per aria ma di fattualità, di discorsi concreti che riguardano quindi cosa comporta la costruzione di un fabbricato di quelle dimensioni. Mi aspetto un esito positivo perché mi rifaccio le parole del presidente Tagliolini di Marche Multiservizi che è poi la capofila di Green Factory che propende, si fa paladino del coinvolgimento della popolazione, dell'informazione della popolazione e anche le parole di Andrea Torcoletti il quale ha sempre ribadito la fondamentale importanza dell'informazione popolare e della volontà della popolazione nella decisione su questa costruzione. Allora, nell'invito noi abbiamo chiesto se è possibile di fare l'incontro o la prima o la seconda settimana di marzo. Al momento non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta ma come ho detto prima siamo fiduciosi che questa arriverà entro qualche giorno. E sempre a proposito di lavori, l'amministrazione comunale di Vallafoglia ha comunicato che proprio nei questi giorni il ponti in legno della pista ciclopedonale di collegamento tra bottega e pian del bruscolo sulle fiume Foglia sarà interessato da un ulteriore intervento di manutenzione programmato i mesi scorsi a completamento dei lavori già eseguiti. La durata dei lavori, stimati in una settimana circa comporterà la chiusura dell'accesso necessaria per garantire la sicurezza delle transito. I lavori riguardano la sostituzione di ulteriori elementi che, pur non compromettendo la stabilità strutturale delle ponte risultano ammalorati e la loro preventiva sostituzione impedirà una deformazione della campata interessata che potrebbe limitare la funzionalità del camminamento. E da giovedì 25 febbraio nelle comune di Vallefoglia attiva un nuovo servizio. Asper SSPA ha infatti aperto uno sportello di ricevimento alle pubblico in Via della Libertà a Montecchio. Il presidente Luca Pieri si spiega nel dettaglio per che cosa ci si potrà rivolgere nel nuovo ufficio. Noi per il comune di Vallefoglia, tra gli altri servizi, gestiamo anche il servizio di riscossione coattiva dei tributi e quindi per tutto quello che riguarda i tributi del comune di Vallefoglia i nostri dipendenti saranno disponibili al pubblico tutti i giovedì dalle 14.30 alle 17.30 e i venerdì dalle 9 alle 13.00. L'ufficio è già stato aperto, già di fatto da giovedì 25 i nostri dipendenti sono presenti sul posto. C'è anche un recapito telefonico per un eventuale appuntamento quant'altro, è lo 0721 37 24 05. I nostri dipendenti saranno a disposizione degli utenti di Vallefoglia per tutto quello che riguarda i servizi che noi gestiamo, in particolar modo in questo caso il servizio tributi, tutti i tributi che i cittadini devono corrispondere al comune di Vallefoglia. Invece è sempre attivo il servizio cimiteriale, sempre gestito da Aspes in un momento poi un po' così critico nel quale ci troviamo? Sì, sì, il servizio cimiteriale rimane sempre in funzione per quanto riguarda il comune di Vallefoglia, rimane sempre all'interno del cimitero di Montecchio l'ufficio con il nostro personale per i 13 anni. E nelle weekend appena trascorso è stato presentato un nuovo progetto dal nome Trowell. Si tratta di una nuova forma di turismo che offre al pubblico delle vere e proprie vacanze esperenziali. Nella conferenza stampa tenutosi presso la celletta Country House a Coldilce sono intervenuti i protagonisti del nuovo progetto. Io sono uno dei cinque promotori di questa iniziativa. Gli altri promotori sono Giacomo Tomassi, Giovanni Tomassi, Giacomo Tamburini e Giuseppe Quercia. Ci siamo trovati per caso tutti con in mente un'idea di un futuro però oltre questo momento di crisi in cui il business e il mondo del turismo è qualcosa di diverso da quello che abbiamo conosciuto fino ad ora. L'idea quindi è quella di puntare sull'esperienza, l'esperienza al centro della vacanza. Quindi non più la vendita di luoghi ma la vendita di esperienze dove il luogo è un secondo aspetto rispetto all'esperienza. Tutti siamo innamorati di queste esperienze che condividiamo come ad esempio la ceramica, i colori naturali, il buon cibo, la cultura di questa bellissima regione e abbiamo pensato di mettere insieme tutta questa nostra passione per condividerla con il nostro pubblico. Oggi parte qui dalla celletta che è la prima struttura che appoggerà questa iniziativa, la conferenza stampa in cui viene comunicato l'avvio di questa attività e per ora noi partiremo dalle Marche con un portale che si chiama Marche Travel nel quale potrete vedere e prenotare direttamente con tre clic tutte le nostre esperienze. Andando nel concreto, le persone possono venire qui il venerdì, ripartire la domenica e in queste giornate fare delle vere e proprie esperienze. Di che tipo? Abbiamo individuato delle aree tematiche. Le esperienze sono ad esempio la ricerca del tartufo. La ricerca del tartufo insieme a dei cercatori. Insieme a loro si va a cercare il tartufo, si vive l'esperienza. L'esperienza è vera, è vissuta, quindi le scarpe si sporcano, si sta insieme a loro. Poi quello che troviamo, se ne troviamo, altrimenti viene acquistato da Travel, viene utilizzato per cucinare. Quindi la sera si cucina qua con ciò che si è trovato. Poi i cacciatori parleranno della loro vita, della loro esperienza, quindi del perché è stata fatta una scelta di vita. E quindi questa è la base dell'esperienza. Quindi proprio il vivere insieme, soprattutto con persone che sono appassionate, che hanno fatto di questa esperienza la loro scelta di vita. Per prenotare quindi la propria esperienza, cosa bisogna fare? Per prenotare è molto semplice, bisogna andare nel nostro portale Market Travel e all'interno di questo portale ci sono tutte le varie esperienze e con tre clic è possibile prenotare fino a scegliere la camera. Gli ospiti di questa esperienza hanno a disposizione un pacchetto chiave in mano. In pratica dal venerdì pomeriggio fino alla domenica mattina è tutto compreso. Quindi questo significa anche i trasporti, pranzi, cene, colazioni, tutto. Quindi è massima trasparenza e massima chiarezza nella proposizione del nostro servizio. Mi pare una cosa molto interessante. Questo è un luogo veramente straordinario e affascinante perché Coldelce ha una storia antica dei castelli di Serra di Genga, di Coldelce, di questo territorio. È un territorio bellissimo, pieno di fauna selvatica, di ambiente incontaminato, una storia di castelli, di monasteri. Quindi penso che sia un'iniziativa molto azzeccata. È una specie di paradiso terrestre questo. Quindi qui insegnare, come avrebbe detto la mia povera nonna che è morta a cent'anni, come fate il mondo, come si fanno le tagliatelle, come si fa la legna, come si fanno le potature, come è fatta tanta fauna selvatica che va dal lupo al capriolo allo scoiartolo a tutto quello che... e anche alle bellezze paesaggistiche, ambientali che sono ancora integre come erano cent'anni fa. Poi qui si mangia da Dio. Quindi c'è di tutto e di più e mi pare una bella iniziativa. Noi tra l'altro stiamo lavorando per fare due cose molto importanti. Uno è un portale turistico dove racconteremo, uno può cliccare dal mondo e capire cos'è stato questo territorio centinaia di anni fa che dialogavano con Federico da Montrefeltri, ma alla testa di Rimini e della Rovere di Pesaro col pianeta. E diciamo le radici storiche della città di Vallefoglia che vanno da Giovanni Santi a Girolamo Genga a personaggi illustri di caratura nazionale e quindi mi pare una bellissima iniziativa ma tutto il plauso della città di Vallefoglia. E per quanto riguarda la proposta fatta dalle sindaco Palmirocchielli alla Regione Marche settimane fa a seguito di una richiesta di uno studio di fattibilità delle infrastrutture sulle tratto Pesaro Fano, Fossombrone, Urbino, Montecchio, Pesaro l'assessore delle infrastrutture Francesco Baldelli ha risposto comunicando di condividere quanto proposto. In particolare, dopo l'esito degli incontri tenuti nei giorni scorsi con la rete ferroviaria italiana per verificare il potenziamento delle infrastrutture esistenti la Regione ha comunicato che si sta adoperando per creare un anello ferroviario longitudinale e trasversale alle valli marchizane e in questa prospettiva è possibile valutare l'idea di estendere lo studio di fattibilità alle tratto viario interessato allargando una gamma di soluzioni che vanno dalle BRT e le bus rapide transit alle treno tradizionale passando per la cosiddetta metropolitana di superficie. E seppur ancora in attesa dell'inaugurazione ufficiale in questi ultimi due venerdì delle mese di febbraio il Museo Giovanni Battista Venanzi ospitato nella chiesa di Sant'Egidio a Sant'Angelo in Elizzola è stato aperto in via straordinaria alle pubblico. Il museo, unico in Italia nelle sue genere ospita 32 opere recentemente restaurate dall'artista alle quali è dedicato. Vediamo il servizio. Qui siamo nel regno dei Perticari che è una antica famiglia nobiliare pesarese che aveva in questi terreni intorno a Pesaro quindi nella zona di Sant'Angelo in Elizzola tutta una serie di proprietà tra cui questa chiesa costruì questa chiesa nel 1684 insieme ad un ospitale per i poveri pellegrini che nacque in maniera accanto accanto a questa chiesa e che attualmente non è più presente perché poi il tempo ovviamente lo ha distrutto. Nel 1684 in realtà esistevano i lapi che poi si imparentano con i Perticari a cui poi successivamente dai Perticari in poi segue tutta la stirpe dei Perticari ancora presente con mio suocero le figlie presenti e viventi attualmente. L'unicum di questa chiesa importante è che nel momento in cui i lapi la costruirono affidarono a questo pittore che era un pittore che nasce e muore a Pesaro Giovanni Battista Venanzi e che in tarda età dopo un lungo periodo di permanenza presso la corte dei Principi Farnese di Palma dove era il primo pittore di corte rientra Pesaro e tutta la zona tutta questa chiesa e l'ospitale vengono istoriati da questo pittore stesso per cui in questo momento restaurate completamente esistono qua all'interno 32 opere di quest'autore ed ecco da qui che è nata l'idea di fare questo museo monotematico su Giovanni Battista Venanzi che quindi è un pittore del Seicento quindi tardo barocco e quindi per questo motivo devo dire che è un pittore che lascia molti quadri nella zona di Parma e in altre zone italiane nel momento in cui il mio suocero recepisce tutti questi beni da sua madre eccetera eccetera il mio suocero il conte Giancarlo Cacciaguera Perticari allora decide appunto di mettere questo bene una chiesa con tutti questi quadri che in quel momento ovviamente non erano restaurati così come la chiesa ha dovuto subire un notevole un notevole restauro rifacimento eccetera però di metterla a disposizione successivamente della popolazione o comunque della parte esterna da lì poi recentemente è venuto un incontro molto interessante con il senatore Palmirucchielli sindaco dell'area da qui è nata l'idea proprio di costruire e di un museo di generare un museo qua all'interno museo monotematico appunto Giovanni Venanzi e da qui nacque l'idea stessa sì il mese di febbraio abbiamo cercato di riaprire i nostri musei come a Ponte Vecchio il museo della civiltà contadina qui a Sant'Angelo in questo importante luogo la chiesa di Sant'Esidio un luogo importante appunto storico culturale e artistico e il museo del Venanzi viene come dicevi assaporato inizialmente insomma si sarà modo e tempo di inaugurarlo in modo più festoso con la cittadinanza ma intanto dare la possibilità a questi due venerdì su appuntamento di visitare i nuovi quadri ristrutturati è una cosa importante sono 32 opere di un pittore nato a Pesaro del 600 e questo luogo per l'amministrazione riveste una sua importanza il comodato d'uso si è permesso di utilizzarlo anche in passato con eventi culturali eventi musicali tutti ben riusciti l'inaugurazione di questo museo permetterà in futuro di visitarla con maggior frequenza e ora concludiamo parlando di sport dopo un lungo periodo di pausa è l'ora delle ritorni in campo per la Megabox Vallefoglia la squadra allenata da coach Fabio Bonafede tornerà in campo domenica 28 febbraio alle ore 17 alle Paladineggi di Montecchio contro la LPM BAM e Mondovì nella prima giornata della pole promozione la seconda fase del campionato di serie 2 femminile si articola in 10 giornate in cui ogni squadra affronterà in gare di andata e di ritorno tutti gli avversari non ancora incontrate nelle corse della regular season tutti i risultati conseguiti però nella prima fase sono vali dai fini della classifica della seconda alle termine delle 10 giornate la prima classificata sarà promossa direttamente in serie 1 mentre le squadre dalla seconda all'ottava posizione si qualificheranno ai playoff promozione assieme alla vincente della pole salvezza per una totale di 8 squadre e siamo giunti alla conclusione di questa nuova edizione delle Vallefoglia Magazine io vi ringrazio per essere stati con noi qua su Rossini TV vi rinnovo l'appuntamento venerdì prossimo e vi auguro un buon proseguimento di serata grazie a tutti